Certo, esiste quella cosa che si chiama, che i tedeschi chiamano Schadenfreude, cioè il godere delle disgrazie altrui, soprattutto quando chi subisce un colpo rischia di cadere in disgrazia e ricco e famoso, però esistono anche le esigenze dell'informazione che fanno parte proprio di quel vantaggio che ha chi ha avuto successo, cioè essere sotto l'attenzione dell'opinione pubblica attraverso anche la stampa.